Nell'ambito di servizi mirati di polizia forestale, finalizzati al controllo delle attività selviculturali, alla repressione dei tagli furtivi di legname e alla salvaguardia del patrimonio boschivo, il Corpo Forestale dello Stato ha scoperto nei comuni di Santo Arsenio, in località Fontanelle e Corletto Monforto, in località Casino Sierro, all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il taglio abusivo di un bosco di alto fusto ed il furto di piante di proprietà comunale. Le indagini realizzate hanno permesso di denunciare i due responsabili e di recuperare e porre sotto sequestro la legna sottratta illegalmente, circa 60 quintali, già deprezzata e accatastata in un terreno individuato nel confinante comune di San Pietro Altanagro, che probabilmente stava per essere immessa nel commercio abusivo della legna da ardere.